La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre 540.000 articoli vari non sicuri per i consumatori in quanto privi dei requisiti informativi minimi e obbligatori. I militari sono intervenuti nei confronti di un commerciante cinese in zona croce coperta e di due commercianti di nazionalità pakistana ed equadoregna al mercato settimanale della Montagnola. I trasgressori sono stati segnalati alla Camera di Commercio per i provvedimenti amministrativi previsti e rischiano sanzioni fino a 25.823 euro ciascuno.